la città non è giusto per lo tempo la gippa la gippa la gippa me lo rega passate oh ragazzi carichami il bot di cinquattro e lasciamolo da giustare vai, è un'idea anche il maglio che si può stare nooo, per buonanotte per voi dai va, ho detto oh giusto, chi resta a prendere uno solo che resta a prendere la gippa la gippa fa il media poi dopo mi trovo cos'altro non è quando non può che ero in area dopo il carro entrare ok ma qui dietro io sono mai ricordi guardate il culo fermi che mi non sparate camperate adesso ragazzi camperate noi abbiamo raggiunto la strada ovest ragazzi arrivano arrivano a più arrivo arrivo aiuta fa mergire siamo a sentito dietro aspetta arriva 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 love love guard power sposta aprivela prendi il paro sterno dalla galleria stanno 2 e potremmo sterno dalla galleria guardami che carico ma noi siamo su C per andare a C coprimi il fan guardate quanti mi spiega il mero com'è cazzo ha fatto ad essere distrutto in duna non si scoppondi quello lì quel bmp guardate quanti qua guardate quanti cosa mi muovo io su C coprimi guarda 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 sono ancora vivi sono ancora vivi sono lì per te bravo zebra bravo zebra bravo zebra no no siamo a posto sono morti tutti sicuro sicuro si poi nero appena è ripresa ari torniamo sulla stradina la noi facciamo la scuola con la stradina e alza con l'altra arrivano dietro nero dietro 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 ucciso 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 si tanto nero tranquillo che ho messo la scansione nero è nero non mi è sembrato eh non l'ho mica visto non l'ho visto neanche per un po' lui tranquillo nero c'è la scansione io eh un'altra volta il bmp stasera arriva 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 sono in due verso due sul ponte due sul ponte distrutto uccisi però eh io stavo riparando dietro ma andavo sicché ero un spettacolo eh i loro sono rimasti dentro però sono morti lo stesso eh cosa metto come bonus quando sono qui morto a sette il laser venni venni munizioni venni quanti soppressione ma se c'è già soppressione sono sul ponte già nero lascia pure esplosivi che ci manca nero ragazzi stanno arrivando su alfa dalla stradina a est quella col ponte e quella volta via guardate che ti prendo a fronte che ti prendo a fronte che ti prendo che ti prendo sono almeno anche uno ha frizzato di loro mi sa chissà un suo alfa ragazzi abbiamo usato un suo alfa ok la mia idea è quella di riparo squadra ah c'è molta gente qua c'è un po' di gente qua ammazzato nell'angolino nell'angolino ok ucciso uno è passato ah è sicura ok torna la stradina nero cazzo l'ingegnere è poco però sono là per riparare dietro cazzo non ci avevo un altro va per arrivare un'altra volta usato il penno ma adesso sembra combattato indietro se vuoi vado avanti lo spacco no non so perché non è che da qua eh mi dobbiamo non tieni qua chiamami se hai bisogno nero teniamo la nostra patica non muoviamoci sono loro che devono venire da noi si ma se riusciamo a caputare ci definiamo prima ma l'ho distrutto si è riparato sono in quattro dentro sono in quattro dentro non lo staccherò mai ah ciao ciao sono in 700 din non riesco a spaccarlo eh ma credo che sei ah che ce l'ho fatta incredibile incredibile ce l'ho fatta è una jeep sua nero nero jeep sua io adesso torno però c'è ancora gente lì che è passata cioè scesa del coso non preoccuparti io dovrei averli uccisi tutti ok siamo in controllo uno l'ho ucciso io anche arriva ancora gente da dietro da dietro là dove stiamo noi e Zeb io sono la metà di a3 e mi ha raggiunto lì credo che c'è cioè prima erano là sì più o meno non ce l'ho 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 è l'esperienza qui dice Zeb andiamo su c gli dobbiamo dagli alla mano no 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 assolutamente no no la raga difenderà è via alfa e la via esatto di coso è scuonato li metterò un attimo sego monti arriva fanteria nero fanteria piedi sì No, Monti. Occhio, c'era un altro. Sono passati via destra. Ragazzi, dalla panteria ha tagliato dove c'è la prima copia di MCOM. Avete presente? No, no. L'abbiamo preso, Zebra. L'abbiamo preso io, Monti. Ok. Ok. Hai bisogno su Alpha. Ah, stavo facendo il giro. Nero faccio Alpha. Nero faccio Alpha. Nero faccio Alpha. Monti, Monti. C'è un Alpha, però. Nero, fermo, 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 fermo. Bravo, bravo, Judo. Bravo, bravo, Robby. Ti tiro su, ti tiro su, Robby. Ti tiro su, arrivo. Ti tiro su. Bravo, Robby. Ti tiro su. Ti tiro su. Ti tiro. role Ada in miso. Ah. Ok. niente l'agat ce n'è uno non è niente guarda con il cazzone i loro spawn sto guardando con i tagliatrici la via è partito il bmp non c'è più in base a terra arrivare arriva qua da noi no ho visto uno mino però penso che sia andato su c verso b da c a b l'altro destra l'altro destra fai il giro miro si si ci siamo ci siamo ok mini ti dico io quando faccio accettare il c4 c'è la visuale guarda dietro guarda dietro queste azzerbe si si tranquillo che dici c'è fatto un ospitino a quello di no no aspetta nero vieni aspetta stai pronto ma l'ho distrutto ma l'ho distrutto l'ho distrutto l'ho distrutto madonna me ho scaduto pensavo che mi avessi mi avrebbe distrutto cazzo cazzo eh l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto tre da destra raga ma se mi girano il corridoio tengo uno a cazzo cazzo piatta alpha alpha c ne è uno più distrutto un attimo e arrivo su A ce n'è ancora uno ragazzi, c'è ancora uno su Alpha dentro dentro è coso no no c'è un altro dentro dentro ok è morto ok ok bravo posso andare? ma è che c'è stato ormai sono finito ora che hai affatto è finito potevamo benissimo anche andarcene direttamente anche sulle altre bandiere invece di fare così però uno fa più che bene no beh teniamoci le tattiche nero vero così nero così non abbiamo rischiato un cazzo Alpha è la protetta da Love la batteria è rimasta su Bravo adesso Ricky devi fare il terzo sul carro però che spoti le mini e io faccio il mitragliere esatto oppure te a mitragliere e io spotto le mini sulla terza no faccio il terzo faccio il terzo ok tutto 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 tutto